La Farm Italia a Saturnia cede il passo all'ITAS Volley Trentino, in occasione della settima giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca 2023-2024. 0-3 è il risultato finale del big match contro la prima in classifica nonché campione d'Italia. Vantaggio degli ospiti, come detto, mantenuto in tutti e tre i set, finiti rispettivamente per 15-25, 20-25 e 17-25. Hanno forzato tanto il servizio e abbiamo avuto difficoltà con il side-out. Così loro fin da subito hanno preso il largo e noi abbiamo dovuto sempre inseguire, ha commentato così la sconfitta coach Peppe Bua. Adesso però dobbiamo rimetterci al lavoro perché mercoledì ci aspetta una sfida diretta per la salvezza. Abbiamo sempre dato spettacolo e mercoledì lo potremo fare solo con l'aiuto del nostro pubblico. È ancora tutto aperto. Appuntamento ostico dunque quello di mercoledì per la Saturnia che alle 20.30 al Palacatania affronterà la Pallavoro Padova in uno scontro diretto per la salvezza in cui la parola d'ordine sarà vittoria.